Lei è Kira, è un incrocio tra un hamstaff e un pitbull, è nata ad agosto 2017 ed è entrata in canile da noi a gennaio del 2019. Purtroppo è una rinuncia di proprietà perché i suoi padroni non potevano più tenerla a causa della nascita del quarto figlio, quindi non riuscivano più a gestirla nella maniera adeguata. Kira ha un carattere un po' particolare, è una bulletta a tutti gli effetti, è tenace, è starda, di bello anche quando si affeziona alle persone ama follemente, quindi se siete famiglie attive e dinamiche Kira vi aspetta. Ma avete visto com'è bella Kira? Benicetti! È davvero una cagnolona che non si meritava quello che è successo, peraltro nessun cane si merita la cattiveria dell'uomo e il suo egoismo, perché di questo si è trattato. Come si fa? Perché nasce il quarto figlio a buttare letteralmente fuori casa quella che è stata anche lei un membro della famiglia e anche lei una bimba. Io penso che quindi questa piccolina si meriti davvero di ricevere tutto il vostro amore, di vedere aperta la porta della vostra casa. E poi è davvero bella, abituata già anche ai bambini, quindi non aspettate. Telefonate subito al rifugio di Modena al 349 6700 206. Oppure come al solito scrivete a portamiacasa.it E mentre mi co...